vediamo lui 16 e 65 va a essere fra i primi 12 e qui ci siamo se basta o se è qualcosa a meno mi sembra nullo? è nullo ma come nullo? sarebbe bello vedere la rullata, il movimento del piede che la regia internazionale non dà il famoso discorso della rullata se ne sarebbe ci fosse quell'immagine della rullata donato 0,2 mm è dato fa da ridere guarda che 0,2 è il vento ah scusa 1,1 il tempo di Valentini bravo ha fatto il suo non permette qualificazione, l'unico è Matteo Galvan potrebbe farcela, è rimasto fuori proprio per una posizione e 3 centesimi diciamo che è andato avanti quello che ci ha convinto di meno dell'uso delle braccia pari di quasi tutti l'ambio quasi tutti gli saltatori beh donato è sembrato efficiente sì dovrebbe esserci dai questa ripresa non garantisce ma il suo gesto sì sì è difficile traguardare come ha regalato 16 centimetri 11 centimetri stavolta 1,665 1,665 bisogna fare per essere c'è in albergo salto non concluso quindi grande potenzialità 1,664 anche lui gli manca un centimetro diciamo che è già fatto dai può fare l'ordinazione al bar non è deve ancora pagare la consumazione ma ci siamo vento